Ciao, mi chiamo Maria Carla Sapuppo, sono una Digital Specialist e in IFOA sono docente per i moduli di Digital Communication e Content Marketing. Il corso Build Your Digital Future di IFOA, con il sostegno di JP Morgan, Chase & Co., contiene in sé già il perché è un corso, a mio parere, diverso dagli altri. Abbiamo la costruzione di skills che riescono poi ad essere realmente profittevoli nel futuro dei nostri ragazzi e delle nostre risorse, perché mettiamo in pratica con esercitazioni e scambio continuo di feedback quello che poi avverrà nel loro futuro in agenzia o come consulenti. Una formazione ad alto livello che dà la possibilità ai nostri ragazzi, in modo gratuito, di avere gli strumenti per potersi posizionare e investire il loro futuro nel digital. Una risposta molto scontata, ma no, non se ne può fare a meno ed è anche per questo che all'interno del nostro corso andiamo ad approfondire come oggi gli strumenti di intelligenza artificiale possono essere una guida e un compagno nella creazione dei contenuti social, ma non solo. Quindi sicuramente saranno i nostri compagni del futuro. Una delle più grandi emozioni è vedere come nell'arco dell'evolversi del nostro programma alcuni studenti riescono già ad immaginarsi nel futuro rispetto appunto al loro futuro job title. Quindi ci sono alcuni studenti che iniziano questo corso pensando di volersi specializzare sulla parte più di visual, quindi sulla parte di graphic designer e poi si rendono conto invece di una loro indole rispetto ai temi del copy. La cosa bella è il momento in cui visualizzano questo momento di insight, quindi di futuro. Ed è lì secondo me che la vera differenza è l'accompagnamento che noi docenti facciamo nel far scoprire il mondo del digital e tutte le possibilità che attualmente ci sono. Grazie a tutti.